Ciao a tutti ragazzi e benvenuti per questo minuto, oggi siamo in questo nuovo video con il computer, allora in questo nuovo video volevo farvi vedere una cosa, avete presente che quando non avete connessione e aprite tipo google chrome viene fuori questo qua, il caso? se volete mettere questo pulsante, non lo vedete, questo qua ecco la freccia verso l'alto, guardate cosa succede, scusate che metto, ecco, premiamo con la freccia e questo qua potremmo giocare, praticamente dovremo saltare questi e fare il punteggio che possiamo senza novità, quindi qua, ogni 100 farà quel 3, non so, questo, ecco, e vabbè ora muoio per prendere queste cose, voi morite così, ecco, e, scusate, ecco, appunto, poi vabbè se cliccate qua, la frecchetta qua potete rigiocare, in questo caso, io no, bene ragazzi, per questo video tutto, spero di essere tutto, commentate, iscrivete, condividete, se volete guardate, se non ci sono, se volete a fare un video, alla prossima, ciao, ciao, ciao! la prossima